ok sono con la mia ragazza perché lei ancora non ha visto il mio nuovo effetto che ho messo in vendita ragazzi tutto quello con le dirette è reale anche perché il gioco è in vendita quindi la performance super reale del mio nuovo akarn si chiama oracle devo fare qualcosa io? intanto devi essere testi ma mentre il mazzo è un mazzo completamente regolare ok? un mazzo con i dorsi completamente regoladissimi non segnali niente un basico si trova dunque se si rinnozzi di magia quindi lo possono fare tutti? tutti bravissimi tutti potrete fare questo effetto prima di tutto voglio che tu mi dici una carta che vuoi tu io scolo quella che vuoi te la scolo perché se magari mi dice a voce Nicolai se non mi si raccola quando vuoi mi dici stop quale vuoi? sei di quadri sei di quadri non vuoi con questa 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 sei di quadri non vuoi cambiare con questa? no no sono decisa ora altra cosa mescoliamo 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 come vedi non c'è nessun segno io mescolo tutto giusto? ora ti chiedo la cortesia io faccio un oracolo vedi che è un oracolo? cioè è un cerchio magico tutto casuale così bello così e ora ti chiedo dimmi il numero tra 1 e 50 e 2 che vuoi tu? un numero di una cifra due cifre il numero che vuoi tu? a caso? libera ma mamma mia è impegnativa stessa qualsiasi numero ragazzi any number 18 18 tu sei la cosa sono tutte mescolate giusto? si e non posso fare niente no? è impossibile ora guarda io chiudo tutto vedi che ho chiuso tutto? si ora non le squadro neanche perché è il caso il destino se ora tu stessa una alla volta giri e la diciottesima carta fosse la tua carta sarebbe un miracolo vedi vedi una volta giri e la diciottesima ma è praticamente impossibile è impossibile non hai toccato gira una volta piano piano uno due tre lentamente quattro cinque sei sette otto nove dieci undici doppia quattordici quattordici quindici sedici dici sette questa è la diciottesima sei di quadri gira oh no no allucinami questa è la performance reale del mio nuovo ferro che sta facendo impazzire ora con il mazzo tutto regolare mamma mia ma com'è possibile scusa? che voto daresti tu? tu che riconosci chiaramente quanti giochi hai visto di me tantissimo eh sì ma questo è tosto eh molto gira lo spettatore le carte la carta tua libera da un mazzo mescolato si messo a oracolo questo cerchio magico si crea oracle il nuovo account di stefanoville io dai il voto al dieci grazie grazie